E' strano, abitare allo sopra. Viste che siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, probabilmente era un uomo molto sacro. O forse non aveva ben capito il senso di quelle parole. In una notte che tutto confonde, muta il senso di ogni cosa, mi ritrovo a parlare di questo istante, di un tempo che ha mai avuto, in una dimensione in cui il passato e il presente si confondono. Attorno a me tracce di uomini e di donne che vennero prima di me o che mosso le loro primi vasti secoli dopo la mia dipartita. I primi furono i longobardi, creati in un avamposto in questo luogo. Poi arrivarono i normati, vomitati dal mare a seguito di rovetto di scato. Erano i sanseverino sversi di spada e rapidi di ingegno. Contribuirono ogni volta a cambiare i soldi di questo regno. E poi ho qua noi, di orsini, stilpe, di babbi e di santi, di guerrieri e di traditori. Non conobbi questa stanza. Fu creata dopo la mia morte. Ma è singolare perché proprio in questa stanza viene ricordata l'opera mia e il mio marito. L'edificazione del convento di San Giovanni in palco, fortemente voluta da mio marito Nicolò e da me, Maria del Valzo, sua nobile consorte. Per anni amministrammo la pontea di Nola e la terra di Lago. Finché la benedetta per Francesco Vivo di Francia non costò cara a mio nipote. Tramontò così il nostro atto. Ma questa è un'altra storia. Una storia che non è fatta di sogni. Ma solo di queste ignomili bassezze che tendiamo a chiamare vita. Grazie. 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 Grazie.